L'Aquila Calcio compie 95 anni, lunedì 14 novembre alle ore 22 su Rete 8, uno speciale di 90 minuti sulla storia del calcio nel capoluogo. Dal ridotto del teatro stabile all'Aquila interverranno tanti protagonisti che hanno vissuto e firmato pagine importanti della storia aquilana. Appuntamento lunedì 14 novembre, ore 22, Rete 8 e su www.rete8.it